Trasferta insidiosa per il Rimini, casa della sorprendente capolista Villa Biagio. Entrambe le formazioni arrivano dal triprete raggiunto nella precedente stagione agonistica, con gli Umbri che a distanza di dieci anni hanno riportato una squadra di regione ad affermarsi nella Coppa di Letta Antistica. Tanti cambiamenti accorsi nella campagna estiva di rafforzamento, occhio di riguardo per il centocapista Rinaldi e per l'attaccante Brunori. Il Rimini, dopo la sconfitta a corsa al neri sette giorni fa, la prima tra l'altro in stagione, si affida alla vena realizzativa di Viti e di Buonaventura e a rientro tra i titolari di Cicarevic, avversario già tre volte in questa stagione, auto per squalifica l'esterno Goyebre. Pronti via e all'ottava il Rimini passa, Cicarevic viene atterrato al limite dell'area di rigore, si incarica del calcio piazzato, palla respinta dalla barriera che deviene il pallone tra i piedi di Buonaventura che, ben appostato, sigla così la rete del vantaggio ospite. Torna a sorridere anche la rete bianco-rosso. Sulle ali dell'entusiasmo, il Rimini prova a bissare con Arlotti, Vitali questa volta blocca senza affanni. Un giro di lancette e arriva la risposta di Villa Biagio con il colpo di testa di Brunori che si spegne a lato. Prosegue l'offensiva dei padri di casa con abbordati Montanucci che scalda i guantoni al portiere Scotti. Dall'altra parte, Brunori viene stoppato in maniera fallosa da pettinare di rigore. L'arbitro lascia proseguire, episodio da Moviola. Al 35esimo però arriva il pareggio del Villa Biagio. Questa volta l'arbitro fisca il rigore a favore dei locali con Brighi che stende Cardarelli. Dal dischetto, Brunori trova la settima marcatura di stagione. Per Scotti, nulla da fare. Il pareggio sa di beffa per i biancorossi. Dopo una particolare attenzione in fase difensiva, Buonaventura dimostra di non gradire, calciando la punizione di pochissimo a lato. Ma il bersaglio nell'area per la terza volta in pochi giorni, Vissi si fa trovare pronto quando Vitali ci mette del suo. Pallone, che poi viene calciato sul pallo, sulla ribattuta, l'ex Frosinone, porta i vantaggi ai biancorossi, mandando le squadre a riposo sull'1-2. Ripresa inizia con gli stessi patemi fatti difensivi per il Villa Biagio, come da chiusura di prima frazione, quando questa volta un errore di disimpegno mette nelle condizioni Buonaventura di calciare verso lo specchio della porta. Vitali evita il tracollo. Ma la lezione non serve a mettere esperienza. Altro pallone perso malamente in fase difensiva ed ecco che Mezzavillani quasi quasi trova i gol sicurezza, ma Kanji anticipa Buonaventura, evitando ulteriori pericoli. La prima vera incursione per i Rimini arriva dall'ennesimo pallone messo al centro da Cicarevic per la testa di cola che mette questa volta a lato. I Rimini tiene testa dalla capolista, anche se rischia il pari quando in 60 secondi Rinaldi sfona due palloni invitanti. Il primo per la testa di Kanji, murato in corno dalla difesa biancorossa, il secondo per Brunori che da pochi passi spara alto. Gol sbagliato, gol incassato, settantesimo Buonaventura segue uno scambio tra Cicarevic e Dallotti e per lui, un gioco da ragazzi, infilare Vitali, trovando la seconda gemma di giornata e la particolare doppietta personale che serve per il morale e per allontanare le critiche una settimana difficilissima. Difesa di casa, letteralmente in bambola, ennesimo regalo ai biancorossi, Marlotti calcia alto non approfittandole. Nel finale, la seconda disattenzione di giornata del reparto difensivo dei Rimini manda in gol Brunori, bravo e lesto ad approfittarne, ma la doppietta della rete rosso-blu, giunto al suo ottavo centro di stagione, non serve ad evitare la sconfitta. Nel finale, tra l'altro, viene allontanato anzitempo anche tre quartini per doppia ammunizione. I Rimini si pone per tre rete a due e riparte così la corsa verso la vetta della classifica ad opera dei Biancorossi, campionato che si fa a questo punto sempre più interessante.